Il lettore 2.0 è la terza antologia nata dalla collaborazione tra un noto scrittore, Carlo Lucarelli, e due insegnanti di lettere, Sabiana Brugnolini e Leonardo Scelfo. L'opera si caratterizza per questi importanti elementi. Un'ampia scelta di testi fruibili nelle modalità audio, video, alta leggibilità, testo attivo e col supporto di contenuti integrativi multimediali, la speciale cura del lessico, delle attività di recupero e dell'autocontrollo delle conoscenze attraverso prove di verifica su un modello in valsi, svolgibili con la funzione di tutoring. Ogni volume è accompagnato da un DVD con il libro interattivo. La versione eBook Plus opera sulla piattaforma OpenSchool Network, che consente ai docenti di creare una classe virtuale, di scambiare con gli studenti materiali e di aggiungere anche contenuti reperibili sulla rete. I tre volumi dell'antologia hanno una struttura semplice, costituita da tre sezioni portanti, che trattano rispettivamente le abilità, i generi letterari e i temi, valoriali e della convivenza civile. Ogni unità si apre su una pagina indice che evidenzia, oltre al percorso di lettura, tutti i servizi integrativi digitali attivabili sui singoli testi o sull'intera unità. Fra essi sono ricorrenti gli ascolti, i testi ad alta leggibilità, i testi attivi, le verifiche attive con sistema di tutoring. I testi antologizzati prevedono quindi un'ampia gamma di aiuti. Le letture iniziali sono sempre guidate, molti testi sono integrati da ascolti. Una volta il lupo, la volpe e la lontra allevavano un maiale in società. Gli portavano quel che trovavano, patate, rape, mele e pere cadute dagli alberi. E alcuni testi vengono offerti anche nella versione ad alta leggibilità. Sono infatti composti con il carattere easy reading, studiato per chi ha problemi nella percezione visiva di particolari gruppi di lettere. Ai tre volumi dell'antologia si affiancano quattro tomi complementari. Il volume mito ed epica, ricco di rubriche, che evidenziano la persistenza di temi che ricorrono continuamente nel tempo, coinvolgendo gli studenti in una riflessione attualizzante. Il minicorso di scrittura creativa a fumetti, nel quale Carlo Lucarelli svela alcuni trucchi dello scrittore, dando indicazioni su come scrivere un racconto, sceneggiare un corto o un fumetto, redigere un articolo di giornale, ecc. Completano il volume i laboratori delle competenze, da utilizzare nell'arco dei tre anni, che trattano le competenze linguistiche, ma anche quelle trasversali, fino a quelle multimediali, attraverso l'uso didattico dei videotesti. È bella, è dolce, ma è anche tosta. Di chi sto parlando? Ma della mamma! È simpatica, affettuosa, sempre allegra. A volte, però, come tutte le mamme, rompe. Ma è fantastica! Si chiama Bianca e il nome le sta benissimo, perché lei ama tutti i colori. Ad esempio, mia mamma ogni mattina, quando veniamo a scuola, c'è sempre un povero che ci chiede l'elemosina, no? Magari si potrebbe pensare, si potrebbe mettersi nei panni di quella persona e pensare come sarebbe vivere come lui. Far succedere o aver successo? Essere avvenenti o avvenire? Prender parte. Il volume di letteratura che offre un'esauriente panoramica delle opere degli autori più importanti della letteratura italiana. Questo testo è corredato da una serie di particolari strumenti didattici digitali, dalle immagini attive, che aprono ogni età storico-letteraria, il suo volto coperto e non riconoscibile suggeriscono l'idea di una fuga imminente o di un viaggio. Ha i testi in scena, che offrono in video la rappresentazione scenica di alcuni importanti brani di letteratura teatrale, fino alle videoletture di alcuni capolavori letterari. Che cosa succedere con noi, signor Cavaliere? Basta così! Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la via che... Un agile volumetto Giro di boa aiuterà poi gli studenti a prepararsi in vista dell'esame di terzo anno e fornirà loro delle valide indicazioni sull'orientamento. L'opera è costituita da tre volumi di base e quattro allegati. Primo anno, Antologia volume 1 più mini corso di scrittura creativa Laboratori delle competenze più Mito ed Epica. Secondo anno, Antologia volume 2 più letteratura, fare e leggere teatro. Terzo anno, Antologia volume 3 più Giro di boa. L'opera recupera l'esperienza del lettore in viaggio conservandone gli elementi di forza. Una selezione antologica accurata, gli apparati costruiti in modo da favorire la comprensione dei testi e la loro valorizzazione, l'attenzione ai temi della cittadinanza e dell'attualità giovanile, un percorso ricco di stimoli ma didatticamente agevole e chiaro.